Allora, adesso registro un video anch'io perché mi sento in soggezione che loro registrano meglio no, ok? E questo video ovviamente va su Cose a Casa di Blink46, siamo in un posto, e non posso girare la fotocamera perché vabbè, si chiama Purabracce, ok? E non ci sono mai stato e principalmente ovviamente è carne, ok? Quindi vi farò la recensione, o vi dirò un attimo com'è, ho ordinato una American Stick. American Stick per lui, per me è Indiana Stick che dovrebbe essere un pochino più piccola e magra, si dovrò anche più piccola. E Yaki invece ha preso una Boston, abbiamo idea di cosa sia. Cioè sono tipo nomi di città per bisteccone, costatone, mentre cotte però non è. Ah e poi ho preso una appetizer perché in realtà mi... No, quella era per le views su YouTube, no? Per le tue allora? Per le mie, cioè. Ok, e sono delle alette di pollo fatte a ciambella con decon, non sono una roba strana. Una roba super porn diciamo, cioè tipica di Alvise. Esatto. E abbiamo registrato per il suo canale un altro video poco fa dove ci siamo allenati io e Yaki. X level con Yaki. A proposito, Yaki raga, fortissimo. Cioè sono rimasto veramente sorpreso, Yaki veramente forte. Cioè siete, avete visto il video che abbiamo fatto con coso, con Dimo? Con Dimo. In cui c'era lui che scoppiava e tutto quanto. Bene, sappiate che abbiamo usato quasi un terzo in più barra il doppio del bestia. Cioè una bestia, è fortissimo, non so. Ma poi pesa 58 kg. Domani sono morto, ma questa è un'altra storia. Domani sei morto e infatti io faccio fatica a tenere il telefono. Il telefono. Ti cade. Vabbè, quindi adesso aspettiamo un attimo che arrivino il appetizer e poi la bistecca. Me l'hanno portata su questo piatto e c'è questa roba strana. Tu sai che cos'è? Non ne ho idea. Giuro che non ne ho idea. Cioè dovrebbe essere tipo la salsa che vendono anche al Roadhouse. Questa? No, questa verde. Ma questa qua è lattuga di contorno, non la mangiare. Serve solo per rendere più carino il piatto. Vabbè, vi faccio. Voi quando voglio t'assaggiare? Io non lo voglio perché sono a dieta ma voglio il taste test. Pollo, credo, con del bacon dentro o qualcosa di altro. Sì, che sembra ananas, però secondo me non è. Assaggiamo. Fatto a ciambella. Cin, vai. Vai. Cin, cin. Cacca un cacco. Cacca un cacco. Scommetto che è porno, vero? Oddio. Buonissimo. Aspetta. È New God? No, 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 no. È buono, ma guarda dentro. Non dirmelo. Il bacon. Non dirmelo. Guarda, lo vedi? Guarda da vicino, vicino. Non lo capisco. Ah, è vero? Sopra? Sì, sopra. Sì, sì, sì. Ok. Oh, mio Dio. Scommetto che è ipocalorico. È buono. È buono. È molto buono. Mi è venuta un'idea malsana. Ci credi se provo? Non farlo. No, veramente. A parte che tu sei probabilmente allergico alle verdure, perché io non te lo consiglio e ti esco alle bolle. Vai, allora, facciamo così. Se questo video... Sei un like grabber di me. Non è vero, io non gli ho mai chiesti nessun video. Però mi sembra giusto chiederti. Siccome io non mangio verdure, non mangio cose, se questo video arriva a quanto... È sul secondo canale. Un onesto... Un onesto duemila like. È impossibile. Secondo me ci arriva. A me va bene perché non la mangerò, eh. Facciamo una food challenge con Alvise che sarà... Solo verde. Esatto. Solo verde. Un intero pasto di sole e verdure. Ok, ma non ci arriveremo mai per fortuna. Beh, non dubbi è la soluzione se hai digiuno. A posto. E lo condividiamo da verde. Esatto. Poi, indiana. Indiana per me. Dai, vai. Grazie. American. American qua. Oh, come è golosa. Non supportare via questi. Grazie. Grazie. Non so, buona troppo. Grazie. Allora, direi che, onesto, mi sembra molto, molto porno. Quella di Alvi è molto, molto più porno. Cioè, è più grassa, più calda, più grande. La mia è coperta dal bacon. Quella di Yaki è coperta. La mia è coperta. Ma lo vedo abbastanza soddisfatto. Siamo tutti soddisfatti. Mi sembra... Stai bloccando tutto. Ciao, braga. Bisogna assaggiarla adesso. Allora, andiamo a assaggiare... Mamma mia. Allora, io gli ho chiesto qual era la carne più grassa e succulenta e mi hanno detto questa. Quindi, mo' lo scopriamo. Morbida è morbida, è un burro. Salsa, no. Adesso no. Morbidissima. Manca un pelo di sale. Ok. Eccolo qui. Aspetta. È il mio turno. Così funziona meglio, no? Come hai Yaki? Ma cos'è? È un hamburger, tipo? Non mi spiega? Il filetto col bacon sopra? Guarda qua. Madonna. Il tuo mix? Oh, mi sembra molto golosa. Taste test. È buonissima. È dolce. Manca di sale. Vabbè, meglio così. Meglio che manchi piuttosto che... Esatto. Quello è il mettere del dittè. Prende davvero? Ok. È esploso. È esploso. Certo. Certo. È esploso. Iltal reduz. Eh, ma... Iltal...